Oggi ragazzi andiamo a vedere se i regali di Natale e quelli riciclati ancora li fanno Bella a tutti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti benvenuti ragazzi oggi ci troviamo come potete vedere alle mie spalle qui al villaggio di Babbo Natale che avete visto nello scorso video oggi andrò a rompere i palli un po' di gente un po' così a vedere se i regali di Natale quelli riciclati li fanno e se li hanno fatti quali hanno fatto quelli un po' così va bene oggi andiamo a vedere sta cosa a vedere qui a fare qualche intervista al laghetto dell'euro dove ci sta sto villaggio di Babbo Natale vabbè che l'avete visto anche nello scorso video ma ovviamente iniziamo tra poco dopo che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale attivate la campanella mettete like commentare e fa tutto il coso che dovete fare sempre dai 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 che ora inizia a vedere un po' di gente poi vi faccio vedere perché ci sta sta giornata che oggi è sabato sta giornata bella calda infatti sto anche senza giubbotto se sta bene godiamoci sta giornata raga iniziamo con le domande innanzitutto regali riciclati oggi è tema regali riciclati li avete mai fatti qualche regalo riciclato sinceramente magari a qualcuno che vi sta un po' antipatico qualcosa l'avete fatta sì assolutamente sì più di uno più di uno qua e quale qua dimmene uno tu l'hai mai fatto a lui no lui no mai mai possibile ok ok tu invece li hai mai fatti sì li ho fatti a parenti alla lontana quindi roba tipo quelle cornici un po' cringe un po' boomer ma secondo voi li avete anche ricevuti qualche regalo riciclato che poi non è che ve lo vengono a dire però hai intuito lo capisci secondo te secondo te io ne ho ricevuti più di uno e tra cui tipo libri che sicuramente non erano per me da parenti da amici da amici da amici da pseudo amici migliori quali sono i migliori tu invece secondo te li hai mai avuti i regali riciclati più di una volta sciarte i calzini magliette con magari animali che non sono tra le mie preferenze la tazza col gatto è bella la tazza col gatto è bella infatti mi è piaciuta molto però si vedeva che insomma era rifatta diciamo bellissimo lì farete anche quest'anno i regali riciclati quest'anno no perché mi sono mosso bene con anticipo offerte offerte così al volo tu invece io l'anno scorso non mi è arrivato nulla che potessi riciclare quest'anno quest'anno non so se mi arriverà qualcosa da dare l'anno prossimo svuoti la cantina svuoti ma allora il tema della giornata tema regali riciclati gli avete mai fatti regali riciclati sì sì tu certamente a lei no mai se dicono tutti così dicono qual è stato l'ultimo regalo riciclato che avete ricevuto 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 se li avete mai ricevuti è quello il discorso non puoi saperlo certo secondo te hai intuito qualcosa di riciclato l'avete mai avuta secondo te ma sì sicuro qualcosa è arrivato ma qualcosina sì però lo so non lo sai tu tu non lo sai fatti sì dimmene uno che hai fatto dimmene uno che hai fatto dimmene uno che hai fatto ma colfino della nonna tu invece qualche regalo riciclato che hai fatto? ho fatto un paio di orecchini erano purti in cui non mi piacevano per niente dovevo fare un regalo alla stessa te li sei trovati nel cassetto il classico regalo svuota cassetto diciamo e quest'anno lì farete i regali riciclati? ma tanto se li facciamo i regali quindi fatevela nonna bene e tu invece lì farai qualche regalo riciclato? no piuttosto ne faccio di meno bravo di meno di qualità? esatto c'è un odio la qualità poi si vede però vabbè quelli sono dettagli quelli sono dettagli allora oggi tema della giornata regali riciclati regali riciclati un tema molto dolente quando è sto periodo diciamo innanzitutto li avete secondo te avete mai ricevuto dei regali riciclati che va a vostro intuito diciamo? allora secondo me no mai tu no? no penso di no tu? non credi? eh vabbè ma questo lo sanno solo chi ve li ha fatti e invece voi li avete mai fatto qualche regalo riciclato? no io sono sempre onesta tu sei sempre onesta vabbè tu invece qualche regalo riciclato lo hai mai fatto? beh qualche videogioco magari che non usavo più a lei o a lui chi aveva fatto? no non ho nessuno di lui ah non si dice ai presenti non si dice e tu invece qualcosa di riciclato l'hai mai fatto? no anch'io sempre stato messo i classici regali svuoti a cassetto non li avete mai fatti? ogni tanto servo ah e ogni tanto se beh 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 a quel che dice a me c'è sta qua che è che me ne faccio questa cosa l'ho qualche regalo riciclato quest'anno lo farete? no tu no perché tu non l'hai mai fatto e mai ricevuto aspettiamo la tradizione quindi mi raccomando a lei zero regali riciclati e mi raccomando sennò siete degli stronzi e quindi tu invece lo farai quest'anno qualche regalo riciclato? devo pensare e ancora in valutazione? valutazione quanti sono quelli che sarà giocano? due o tre quanti sono? pochi 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 sarà giocano tu invece qualche regalo riciclato lo farai quest'anno? beh può darsi però non alle persone più importanti sicuramente che sono loro due? anche 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 quindi anche loro se la giocano fate attenzione oggi come ho detto tema della giornata sono i regali riciclati allora avete mai fatto dei regali riciclati? eeeh che io ricordo no no in realtà no forse uno forse ma tanto tempo fa tanto tempo fa tu invece lo hai mai fatto un regalo riciclato? assolutamente sì a lui? no 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 è sembra troppo poco tempo è ancora presto però bagno schiuma tesoritoriero coppa a dire non te lavi i classici regali che dici non te lavi e i regali i bagno schiuma assolutamente quelli sono sempre regali ben accetti diciamo tanto secondo voi li avete mai ricevuto qualche regalo riciclato ad intuito vostro? sono sicura di sì sicuri di sì? sì 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 l'ultimo costo che hai ricevuto qual è stato secondo te qual di regalo riciclato secondo te che tu dici ma questo secondo me ha svuotato il cassetto allora probabilmente più che altro li posso dire da chi perché poi sono ah un calendario di legno dell'anno scorso due anni fa due anni fa almeno era esatto il calendario? sì almeno quello era esatto sì 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 e poi ci hai piccato nel cammino l'hai messo poi finito l'anno si mette nel cammino è certo tu invece l'ultimo regalo riciclato che hai avuto qual è stato? sempre un cofanetto di bagnoschiuma perché la ruota gira e quindi e quindi pur a te te hanno detto non te lavi era lo stesso che ho regalato io ah ecco è quello va girando poi è capace che quest'anno te lo ritrovi in mezzo eh assolutamente qual è? un regalo riciclato se lo farete? li farete quest'anno regali riciclati? eh già tanto che farò se farò regali però non penso che farò regali riciclati hai già svuotato il cassetto? non c'è più niente nel cassetto l'ha già dato tu invece lo farei quest'anno un regalo riciclato? mi leggo al suo discorso sono poverissima quindi probabilmente non farò proprio regali perché pure tu c'è il cassetto vuoto hanno già grattato il cassetto hanno grattato sì esatto esattamente dicevo tema della giornata sono i regali riciclati innanzitutto secondo voi avete mai avuto dei regali riciclati? assolutamente sì sicuramente sicuramente l'hai avuto tu invece? sì penso anch'io da parte sua? da parte sua no vabbè ci dobbiamo credere sì vabbè li avete mai fatti i regali riciclati? dimmene uno dimmene uno da noi c'è una tradizione in famiglia che il giorno dopo il Natale ricicliamo i regali che non ci piacciono e li diamo via beh beh questa tradizione mi piace devo dire che mi piace tu invece l'hai mai fatto? sì sì l'ho fatto non mi sto ricordando cosa però l'ho fatto un paio di volte un paio di volte tu te lo ricordi l'ultima cosa che hai dato a qualcuno qualche cosa riciclata? la sigaretta elettronica bravo tu non fumi? sì fumi no le sigarette elettroniche eh diciamo per sé più nature più nature tu invece l'ultimo regalo riciclato che hai fatto? più un braccialetto un braccialetto che mi era stato dato ma non mi piaceva e quindi hai detto perché me lo devo tenere e beh i classici regali svuotacassetti diciamo quest'anno tu c'è dalla tradizione lo farai qualche regalo riciclato? eh dipende da cosa ricevo dipende da cosa ricevo se ricevi tutto in cosa? a lei sicuramente a lei sicuramente da l'onestà raga onestà onestà è tutto io uguale tu però devi fare attenzione a qual è quello riciclato che lui ti darà eh fra i tanti certo non ti me ne accorgo subito te ne accorgi tu c'è l'occhio clinico tu invece lo farei qualche regalo riciclato? lui ah ve li scambia e tanto ormai lo sappiamo che siamo messi d'accordo preciso quindi sarà intuito quale sarà tra i tanti ce ne sarà solo uno di riciclato facile da scoprire va bene ragazzi quindi noi ci vediamo invece al prossimo video mi raccomando se anche voi fate regali riciclati scrivetelo qua sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao